benvenuti sul canale della fata tutto fare in questo video tutorial vi presento la borsa weekend questo progetto ve lo avevo già anticipato durante l'ultima diretta instagram durante la quale vi avevo mostrato la particolarità di questa chiusura l'abbinamento con questo manico meraviglioso che è un mix di metallo e velluto e questa combinazione particolare con il verde ovviamente per la scelta dei colori lo spazio è tutto alla vostra fantasia quindi a me non resta che farvi vedere tutto l'occorrente per realizzare questo progetto anticipandovi subito che è più semplice di quello che può sembrare per realizzare questo progetto avrete bisogno innanzitutto della click clack si chiama mega clip ed io ho scelto la finitura argento con i pomelli neri avrete poi bisogno del manico si chiama manico box circle anche questo è disponibile con più colori ho poi scelto il filato sublime lux nella variante verde vi occorreranno due rocche vi occorrerà per quanto riguarda la lavorazione l'uncinetto del tre e mezzo inoltre dovrete munirvi di marca punti filo in nylon pinze e tutto l'occorrente ovviamente per poter poi cucire la click clack alla nostra borsa dunque avviamo il nostro lavoro creando un anello magico passando sotto con l'uncinetto dunque agganciamo il filo andiamo a realizzare una catenella per bloccarlo quindi rientriamo e andiamo a lavorare il nostro primo punto basso ne dovremo realizzare in tutto sei quindi faccio il secondo il terzo il quarto il quinto ed il sesto punto basso una volta realizzate le sei maglie tirate la codina in modo da stringere l'anello magico quindi con l'uncinetto entrate nel primo punto realizzato e chiudete con un punto bassissimo dunque avete realizzato le vostre sei maglie basse 1 2 3 4 5 e 6 all'interno dell'anello magico rientrate quindi nel primo punto utile e andate a lavorare un aumento cioè due maglie basse nella stessa maglia di base in questo secondo giro lavoreremo due maglie basse per ciascun punto sottostante andando di fatto a creare sei aumenti consecutivi ciò significa che andremo a raddoppiare il numero dei punti alla fine del giro infatti da 6 passeremo a 12 maglie basse realizziamo le ultime due maglie una e due e avete terminato in questo modo i vostri sei aumenti consecutivi quindi potete a questo punto munirvi di marker perché a partire dal giro successivo cominceremo a distribuire gli aumenti quindi è importante sapere quando inizia e finisce ciascun giro perché il lavoro sarà a spirale dunque non andremo mai a chiudere i giri in questo terzo giro che andremo ad avviare lavoreremo un punto ed un aumento e ripeteremo questa sequenza per ben sei volte quindi facciamo un punto in una maglia e un aumento nel punto successivo quindi due maglie basse nella stessa maglia di base un punto in una maglia un aumento in quella successiva vedete un punto in una maglia un aumento nella maglia successiva quindi due maglie basse nella stessa maglia di base quando lavoriamo in questo modo l'ultimo aumento dovrà essere lavorato nella maglia marcata come vedete avete due maglie ancora libere facciamo l'ultimo punto togliamo il marker e lavoriamo l'ultimo aumento in questo modo alla fine del terzo giro avremo un totale di 18 maglie basse una volta lavorato l'aumento marcate sempre l'ultimo punto dunque avviamo il giro successivo quindi siamo pronti per avviare il nostro quarto giro lavoreremo due maglie basse consecutive ed un aumento nella maglia successiva due punti e un aumento che ripeteremo per tutto quanto il giro portando in questo modo il totale di punti bassi da 18 a 24 facciamo insieme la chiusura mi restano le ultime due maglie e nella maglia marcata andrò a lavorare l'aumento quindi in questo quarto giro lavorando due punti ed un aumento vado a totalizzare 24 maglie basse quindi una volta lavorata la ventiquattresima maglia andiamo sempre a riposizionare il nostro marker quindi insieme adesso andiamo ad avviare il giro numero 5 nel quale lavoreremo sempre i nostri 6 aumenti e andremo ad inserire in questo giro 3 punti bassi più un aumento 3 punti un aumento che ripeteremo per 6 volte fino a portare il totale delle maglie a 30 chiudiamo insieme anche questo giro come vedete ci restano 3 maglie basse l'ultima maglia quella marcata accoglierà l'aumento 3 punti un aumento quindi alla fine di questo quinto giro abbiamo 30 punti bassi quindi torniamo a marcare l'ultimo punto da questo momento in poi andremo ad applicare una piccola variazione infatti come potete vedere se avete già avuto modo di lavorare con questa che la stessa tecnica degli amigurumi noterete che il vostro pezzo comincia a prendere una forma esagonale quindi si formeranno sei punte questa forma è da attribuire alla sovrapposizione degli aumenti quindi a partire da questo giro quando appunto inizieremo a lavorare 4 maglie basse ed un aumento inizieremo a sfalsare la partenza un giro sì un giro no lavorando la metà dei punti in avvio e metà in chiusura in questa maniera faremo un giro regolare un giro sfalsato ed eviteremo di sovrapporre gli aumenti quindi nel sesto giro dobbiamo lavorare 4 punti ed un aumento ma come detto di mezzo il numero di maglie nel lavoro la metà nel lavoro solo due e vado ad inserire il primo aumento così facendo questo aumento capiterà tra gli aumenti del giro sottostante quindi da questo momento in poi avvio la sequenza corretta andando a lavorare 4 punti consecutivi 3 e 4 ed inserendo quindi l'aumento nel punto successivo quindi lavoro due maglie in partenza faccio l'aumento e poi proseguo mantenendo la sequenza corretta 4 punti e un aumento per tutto il giro così facendo quando avrete lavorato l'ultimo aumento vi troverete due maglie prima del marker infatti quando fate la partenza in questo modo la chiusura non avviene mai nella maglia marcata chiudiamo infatti questo giro insieme vado a lavorare le ultime 4 maglie e quindi l'ultimo aumento due maglie nella stessa maglia di base come vedete avanzano esattamente due maglie la maglia singola e la maglia marcata queste due maglie si vanno a congiungere con le due di partenza abbiamo sempre totale 4 quindi non cambia nulla rispetto alla sequenza dei punti le maglie sono sempre quelle ma evitiamo di sovrapporre gli aumenti andiamo a rimarcare il nostro ultimo punto adesso abbiamo un totale di 36 maglie alla fine del sesto giro ed avviamo insieme il settimo nel quale partiamo regolarmente quindi andremo a lavorare adesso 5 punti bassi ed un aumento portando in questo modo il totale delle maglie da 36 a 42 quindi inserisco l'aumento dopo aver fatto 5 maglie basse consecutive procedo in questo modo fino a completare tutto il giro chiudiamo il nostro giro lavorando le ultime 5 maglie come potete vedere quando partiamo in modo regolare l'ultimo aumento corrisponde sempre alla maglia marcata quindi lavoro due maglie basse nell'ultima maglia quindi vado a rimarcare l'ultimo punto e adesso chiuso il giro numero 7 avviamo il giro numero 8 dove passeremo da 42 a 48 punti anche in questo caso sfalseremo la partenza questo significa vedete già la forma si è arrotondata che di un totale di 6 punti ed un aumento lavoreremo in partenza la metà quindi solo 3 quindi farò 3 punti inserisco l'aumento e poi proseguo con la sequenza regolare quindi faccio 1 2 e 3 punti bassi inserisco subito l'aumento che quindi capiterà tra gli aumenti del giro sottostante e poi da questo punto in avanti ricomincio la sequenza regolare di 6 maglie basse ed un aumento per tutto il giro tenete presente che noi andiamo ad inserire sempre 6 aumenti in ogni giro ok questa è la regola fondamentale e con questa tecnica vedrete che il vostro cerchio sarà perfetto vado a lavorare l'ultimo aumento e così facciamo anche questa chiusura insieme come vedete vi avanzano esattamente tre maglie che sono quelle che non abbiamo lavorato in partenza ed ecco che la nostra sequenza di 6 punti un aumento resta in questo modo abbiamo totalizzato 48 maglie basse totali marchiamo l'ultimo punto e controlliamo il nostro lavoro innanzitutto la forma dovrebbe essere più circolare possibile perché sfalsando i giri e quindi evitando la sovrapposizione degli aumenti la vostra base sarà piuttosto tondeggiante quindi non avrà la classica forma esagonale di quando invece sovrapponiamo i giri oltretutto il vostro lavoro deve rimanere ben piatto quindi fate sempre molta attenzione alla tensione del filo e controllate ovviamente di avere la sequenza giusta dei punti andremo ad inserire sempre 6 aumenti per tutti i giri successivi che verranno eseguiti secondo questo principio vi dovete sempre ricordare che un giro sì un giro no a partire dal giro numero 6 andiamo a sfalzare i giri con le maglie pari in questo modo ne lavoriamo metà in partenza metà in chiusura e questo appunto ci consentirà di evitare la sovrapposizione delle maglie e quindi una forma esagonale io devo arrivare ad un totale ad un diametro di 30 centimetri quindi procederò punto su punto fin quando questo disco questo cerchio non arriverà a questa misura intanto vi lascio la grafica dunque dalla grafica avete visto tutti i giri che ho realizzato partendo dal primo giro dall'anello magico in cui ho inserito sei punti bassi sono arrivata al ventiquattresimo giro quindi ho lavorato 24 giri in tutto nell'ultimo giro ho 22 maglie basse ed un aumento che ripetuti per sei volte mi danno un totale di 144 maglie basse ed un diametro totale di 30 centimetri quindi il lavoro della base è pronto quindi possiamo smettere da questo momento in poi di lavorare gli aumenti e possiamo continuare punto su punto alzando la borsa per essere certa che il lavoro fosse corretto ho provato a vedere se la chiusura si andava ad iscrivere nel cerchio una volta aperta la struttura della clic clac potete vedere che da un lato abbiamo raggiunto lo snodo della chiusura ma abbiamo un po di margine invece nella parte alta niente paura questo leggero esubero che abbiamo sulla larghezza andrà a compensare l'altezza quindi vi fermate ad un diametro di 30 centimetri e quindi una volta ottenuta la base non dobbiamo fare altro che ricominciare il lavoro lavorando punto su punto le maglie disponibili io ho 144 maglie quindi lavorerò 144 punti per ogni giro continuo a lavorare a spirale senza fare la chiusura dei giri e lascio questo marker come indicazione per poter vedere poi qual è l'altezza effettiva della borsa man mano che la borsa si solleva continuo il mio lavoro a punto basso sono al termine quasi della seconda rocca quindi andrete ad utilizzare due rocche complete per realizzare il progetto ne andrà via quasi una per la base un'altra per l'altezza quindi procedo punto su punto come state vedendo si distingue bene la base perché si appoggia molto bene sul piano e per il resto ho proseguito mantenendo 144 maglie per ciascun giro una volta che avrete completato la seconda rocca avete anche finito il lavoro come ricordate io ho lasciato il marker perché questo mi consente di separare bene le due sezioni della borsa la base con diametro 30 cm vi ricordo che ho lavorato in tutto 24 giri avendo 22 punti ed un aumento nell'ultimo giro dal marker che segna la fine della base alla bordo superiore io ho calcolato 18 cm questa deve essere l'altezza della borsa quindi prendete il vostro centimetro e misurate questa altezza quindi 18 cm non possiamo stare al di sotto di questa misura questo è fondamentale perché la forma della clic clac è molto particolare infatti come ho ottenuto l'altezza della borsa molto semplicemente ho provato a verificare l'altezza della clic clac e le ho fatte corrispondere quindi la misura dei 18 cm corrisponde vedete all'altezza della chiusura quindi avevo la struttura della clic clac inscritta diciamo nel cerchio per quello che riguarda la base e come vedete corrisponde anche l'altezza quindi sono certa a questo punto che la clic clac si va a collocare perfettamente sulla borsa quindi cerco per quanto possibile con le mani di darle una forma un po così allungata cercando di ricavare due lati più corti apro la mia chiusura clic clac e vado a posizionarla ovviamente questo passaggio non lo fate soltanto alla fine ma ripetetelo anche durante la lavorazione per essere certi che state procedendo nel modo corretto io infatti di tanto in tanto l'ho provata vedete adesso ovviamente non ho ancora preso le pinze ma vi faccio notare che tutta la struttura della borsa va perfettamente a collimare ad iscriversi all'interno della nostra mega clip a questo punto cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere tutto l'occorrente per fissare la clic clac ma in primo luogo le pinze perché dobbiamo bloccarla in modo definitivo bloccarle più semplice del previsto perché in questo progetto non ho utilizzato nessuna base avendo invece una base tonda all'uncinetto non c'è nessun verso da rispettare per cui non dovete fare altro che prendere la clic clac appoggiarla e bloccare la borsa senza dover tener conto della base quindi a questo punto del nostro lavoro vi munite di pinze per bloccare il bordo della borsa sulla clic clac vi munite di una limetta per unghie oppure di un coltello senza punta prenderete il filo in nylon e prenderete un ago quindi prendo e vado a riposizionare la mia chiusura come detto come l'appoggiate appoggiate non può venire storta perché abbiamo la base rotonda e quindi comincio a prendere le mie pinze e pian piano vado ad appoggiare il bordo della borsa e vado a pinzare faccio questo passaggio con voi per farvi vedere che la parte superiore della borsa e la clic clac sono perfettamente della stessa misura quindi non c'è esubero così come insomma il bordo non tira quindi è proprio perfetto ok vedete posizionate le pinze vedete che il lavoro non tira mettiamo le ultime su quest'altro lato ok e quindi diciamo abbiamo bloccato grosso modo il nostro lavoro a questo punto cosa dobbiamo fare ci dobbiamo munire o di un coltello senza punta di una limetta per unghie insomma di un oggetto che ci consenta adesso di prendere il bordo della borsa di infilarlo all'interno della chiusura passaggio fondamentale che deve avvenire prima della cucitura quindi prendo in questo caso la mia vecchissima limetta che penso di aver utilizzato per tutte le clic clac realizzate fino a questo momento e spingo semplicemente il bordo della borsa all'interno della mia clic clac dovete spingere fino al fondo in questo modo quando andate a cucire siete certi di passare anche attraverso il bordo della borsa quindi spingete e man mano andate avanti vedete la chiusura è abbastanza grande il filato sublime non è eccessivamente spesso dunque questo passaggio è molto molto semplice intanto che vado a rimboccare il bordo della borsa all'interno della chiusura vi voglio dare qualche suggerimento infatti se nel provare e riposizionare la clic clac vi accorgete di avere un esubero cioè che il bordo della borsa è più grande della chiusura nell'ultimo negli ultimi due giri andate a lavorare o con una maggiore tensione del filo oppure inserite qualche diminuzione altrimenti poi la cucitura vi resta più complicata quindi fate in modo che il bordo della borsa sia della stessa misura della clic clac quindi se avete un esubero nell'ultimo giro di punti bassi fate qualche diminuzione quindi io proseguo in questo lavoro dunque quando avrete terminato il vostro lavoro con la limetta non dovete fare atto che prendere un ago meglio se lungo più semplice inserire il vostro filo in nylon ed iniziare a cucire togliendo progressivamente le pinze man mano che procediamo con la nostra cucitura chiaramente il lavoro non si vede benissimo visto che va riposizionata di continuo la borsa ma dovete entrare in ogni foro e tirare per bene il filo io lo metto sempre a due capi in questa maniera la cucitura risulta molto resistente e non c'è bisogno di fare un secondo passaggio d'altronde la cucitura è molto importante perché ovviamente il peso della borsa è sorretto della clic clac e quindi la cucitura deve essere eseguita con un filo resistente io per questo utilizzo sempre il nylon e al posto del cotone lo metto doppio e soprattutto tiro bene il filo in questo modo con un unico passaggio definisco tutto quanto il lavoro è più semplice di quello che possa sembrare perché non tutti amano inserire le chiusure clic clac ma visto che questa è bella grande sono belli visibili anche i fori rispetto ad altre clic clac che magari hanno il bordo tutto lavorato e dunque si procede più spedite di quanto possa sembrare insomma in una giornata volendo una borsa così un giorno e mezzo la mettete su tranquillamente ovviamente scegliendo i colori che più sono di vostro gusto ma sicuramente vi consiglio un filo bello resistente come il sublime perché come vedete la borsa è molto ben strutturata si regge molto molto bene dunque anche se non andiamo a strutturarla nella parte interna rimane della sua forma grazie proprio al fatto che è un filato comodo da lavorare ma diciamo resistente al contempo molto sostenuto quindi terminiamo la cucitura per poi inserire il manico e vedere finalmente la nostra borsa terminata ed è in questo modo che si presenta la nostra borsa weekend come vedete il taglio laterale molto particolare e tutta la forma della borsa ad essere particolare questo dettaglio è determinato proprio dalla clic clac infatti le nostre borse clic clac sono sempre diverse la differenza di forma viene data proprio dalla struttura della clic clac stessa a questo punto non mi resta che utilizzare questo manico meraviglioso che è già dotato di moschettoni che vado a sistemare negli anellini predisposti sulla chiusura clic clac ottenendo in questo modo una borsa di design estremamente moderna e contemporanea ma con quell'aria vagamente classica che non dispiace dunque una borsa che si può utilizzare in grandi occasioni ma anche per tutti i giorni magari inserendo oltre il manico anche una comodissima tracolla dunque ognuno potrà poi reinterpretare il progetto scegliendo le finiture di proprio gradimento il colore che si accosta meglio ai propri outfit e questo è il mio suggerimento per realizzare questa meravigliosa borsa a questo punto non mi resta che ringraziarvi per avermi seguito e rimandarvi al prossimo video tutorial sperando senz'altro di avervi dato uno spunto creativo ma come sempre io spero possiate mettere in moto la vostra creatività per interpretare il progetto di questa borsa weekend seguendo sicuramente il vostro gusto e le vostre esigenze grazie per avermi seguito alla prossima